ragazzi buongiorno mi raccomando mi raccomando ci tengo mi raccomando ci tengo per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina iscrizione nel canale gratis clicca e iscriviti non costa nulla se ti fa piacere farlo altrimenti non ci sono problemi due chiacchiere le si fanno lo stesso attenzione perché eh io voglio dire una cosa un po' forte e stamattina senza creare eh di eh disguidi oppure senza emanare quell'odio che su YouTube eh molte persone purtroppo emanano quotidianamente anche perché ti ritrovi magari ad augurare una pronta guarigione a delle persone che hanno avuto dei problemi di salute ma loro imperterriti continuano a romperti coglioni scantinato scantinato e via discorrendo quindi un giorno ci spiegherai il tuo scoop mondiale su Pinco dove è finito e ci spiegherai la permanenza di Zanga all'Inter fino a duemilaventisette come visto e continui a rompere i coglioni come ci spiegherai anche perché gli arabi non potevano vedere l'Inter e non gliene fregava nulla dell'Inter ci spiegherai anche questo inoltre ci dovresti spiegare proprio per onestà intellettuale barra professionale come mai sei l'unico che parla diciamo della squadra nera azzurra che non dice nulla su un accordo storico tra Arabia Saudita e l'Inter perché ti brucia il sedere ecco perché non ne parli perché ti prenderebbero tutti in giro e ormai sei a livello mediatico a rantolo perché fai live con mille visual è inutile avere 80.000 iscritti quando si fanno live con mille visual vuol dire che nemmeno i parenti ormai ti guardano il problema è che youtube per molte persone è un lavoro non vengono solo invitati eh negli skybox se parlano bene ma questa è una mia impressione mi posso sbagliare io non so nulla di questa cosa ma youtube per loro è un lavoro abbonamenti donazioni abbonamenti da 29 euro e e e via discorrendo capito quindi per me youtube non è un lavoro e a differenza vostra io sono libero non sono incatenato come voi come quell'altro come quell'altro che fece un video di 20 minuti quando l'Inter non riprese Lukaku oggi escono fuori le dichiarazioni di Dzeko e lui fa finta di nulla anzi da quasi ragione a Dzeko quando ha sempre descritto l'altro fuori l'asse Lukaku come un fenomeno no? Quindi dall'altro Dzeko poi dice delle cose sacrosante che nel calcio sanno tutti ovvero sia ma l'allenatore mette in capo quello più forte anche se avevo trentasette anni trentasei anni e Lukaku l'aveva trenta se stava a sedere c'era un motivo ha avuto trenta minuti di tempo non ha fatto nulla vi ricordate la risa la risata di Dzeko in panchina quando Lukaku sbaglia lo stop cioè eh tra l'altro eh un un grande rimpianto un dito il dito della piaga me lo mette Edin stamattina dicendo non ho mai capito il mio addio all'Inter perché potevi tenere un campione a zero e Dzeko ad oggi Dzeko ad oggi sarebbe dopo Lautaro Martinez e Turam sarebbe il miglior attaccante della rosa dell'Inter lui da solo varrebbe tutte le riserve dell'attacco della rosa dell'Inter ed è anche un mio grande rimpianto soprattutto per quanto riguarda il campionato perché Dzeko in Serie A può giocare fino a quarant'anni perché è un fuoriclasse poi dopo quando si alzavano i ritmi andava un po' in difficoltà ma lui trovava diciamo ehm aveva dei problemi a fare due partite a settimana ai livelli eh con cui giochiamo noi ma non non è non è discutibile Dzeko è un campione è un fuoriclassi ed io quando arrivo all'Inter un po' scettio non pensavo mai ad una resa del genere non pensavo mai non avrei mai pensato ad una resa del genere eh poi manda le frecciate a Lukaku io dici ascolta se sei uno scarparo non è colpa mia se non sai stoppare una palla quindi poi magari con parrucca ora i contropiede Lukaku farà 15 gol ma è l'unico modo eh per farlo giocare Lukaku è l'unico modo è quello lì come lo fa giocare parrucca a Napoli Vietnam al centro campo le partenze e contropiede dall'altro ecco l'incoerenza di questi signori su YouTube è alquanto ridicola sia quello che piangeva per Lukaku sia quell'altro che diceva che gli arabi non non avrebbero mai voluto lì che non gli interessava fare nulla eh soprattutto picco picco il tuo scoop mondiale su picco 40 live 700 mila complimenti è andato a farsi fottere quindi sei finito a fare live con mille visual ma a parte questo e sei l'unico che non parla di un accordo stratosferico con l'Arabia Saudita perché eh OCTRI non è assolutissimamente interessata a gestire il club e attenzione a quello che vi sto per dire perché eh sta passando tutto inosservato il fatto che i giornali non ne parlino non non mi meraviglia per nulla anzi è meglio è meglio perché i giornali i giornali soprattutto Gazzetta dello Sport quelli che parlano prettamente di calcio non sto parlando di giornali economico finanziari davano pinco fatta come quello e fa fitta che non sia successo nulla con l'Arabia Saudita ma OCTRI che attualmente è il proprietario dell'Inter sia nell'annuncio dove tutte le maggiori istituzioni dell'Arabia Saudita si sono espresse dove Antonello su LinkedIn consiglia di leggere di guardare cosa stanno scrivendo dall'Arabia Saudita quindi OCTRI sia nell'annuncio che nella stretta di mano che nelle fotografie non ha garantito la sua presenza non c'è nessuna presenza di OCTRI OCTRI in un accordo storico per quanto riguarda il calcio perché è un accordo bilaterale ovviamente OCTRI non ha mosso fiato e questo ti deve far capire tante ma tante cose questo accordo può far sì che i sauditi possano pompare da subito dei soldi nell'Inter senza farsi lopere le scatole dal fair play finanziario quindi questo è un accordo che porta soldi all'Inter perché saranno loro ad investire nell'Inter l'Inter può investire in risorse umane e vendendo il proprio brand tra virgolette in Arabia Saudita ma sono loro che pompano i soldi e solo loro sono loro che prenderanno l'Inter e che gestiranno l'Inter a centosessanta gradi ma ancora qualcuno serve un disegnino perché aspettiamo ancora Pinco che rifinanzia Zangia che va avanti fino a duemilaventisette per quello e poi riguarda la partita a Roma partita molto ma molto difficile ne parliamo oggi pomeriggio o domani e in settimana prossima sicuramente venerdì sera faremo una live eh con i ragazzi quindi preparatevi perché venerdì ritorna la prima live della nuova stagione quindi Pinco Pinco